La difesa di Renan che poi spara un missile! Lassù qualcuno ha guardato Renan, questo è innegabile! La ricezione di Ghilardi, poi cambia, appoggia per Olivotto, grande difesa di Arcangeli che si trasforma in un punto! Trocina Axel, credo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.